Grande fratello, Giglio e Giulia Bruschi sempre più vicini, baci e carezze pericolose tra i due inquilini Mi piace Lorenzo ma, ciao a tutti e grazie per essere tornati nel canale, iscriviti al canale per restare sempre aggiornato La modella Giulia fuori dalla casa ha un fidanzato che la aspetta, ma la complicità con il coinquilino Giglio cresce Cresce l'intesa fra Giglio e Giulia Bruschi nella casa del grande fratello Il bel Luca Giglioli, oggetto del desiderio e pomo della discordia della modella italo-cubana e di Jessica Morlacchi Le due fra l'altro nel corso delle ultime dirette hanno offerto ai fedeli telespettatori del reality show Furiosa Riti e altri guai È sempre più vicino alla geffina La quale non sembrerebbe affatto di sdegnare le sue attenzioni Nella notte i due concorrenti si sarebbero lasciati andare a pericolose carezze e ad alcuni baci che non sono affatto passati inosservati al popolo del web Voglioso anche quest'anno di nuove ship, dopo quelle già nate fra Shai Lagatta e Javier Martinez Sebbene la ballerina pare avvia già alcuni dubbi sul cestista E Elena Prestes e Lorenzo Spolverato Un feeling sempre più evidente quello fra Giglio e Giulia, dopo i balli in piscina, argomento caldo di una delle scorse puntate In serata, ancora prima di andare a dormire, il biker e la modella avevano già iniziato a scaldare i motori, regalando e regalandosi coccole e strusciamenti sul divano In camera da letto, con davanti a un Ilaria Galassi sorpresa, i due geffini hanno continuato, rendendo incandescente non solo l'aria, ma anche il web Nei giorni scorsi Giglio e Giulia erano entrati nel mirino delle polemiche per via di alcuni rumor che avevano iniziato a prendere il sopravvento Sembrerebbe infatti che i due si conoscessero e si frequentassero ancora prima di entrare nella casa del grande fratello E tu, cosa ne pensi? Scrivilo nei commenti Scriviti al canale per restare sempre aggiornato